Qualità della vita, Napoli terz'ultima in Italia, pesano soprattutto criminalità ed emigrazione stabile caserta, in risalita invece Salerno, Avellino e Benevento. Capoluogo Sannita, primo in Campania, in vetta alla Graduatoria Nazionale per le Rinnovabili. La Mezzola Caserta, stregata dalla Reggio, la Presidente del Parlamento Europeo ha iniziato da Caserta il suo tour istituzionale nel sud Italia. Alla Reggio tornerò con i miei figli e ai giovani rilancia l'appello. L'Europa è per voi, scoperta una targa per Ernesto Rossi. Racket e traffico di droga maxi retata in Valle Caudina, 23 le persone finite al centro del blitz della DDA e dei Carabinieri in Valle Caudina, nel Sannio, al confine con l'Irpinia. L'inchiesta, partita dopo la denuncia di un imprenditore minacciato mentre seguiva un appalto. Stellantis FIOM avverte garanzie su Pomigliano. Le dichiarazioni del Presidente Serbo Vucic, che ha annunciato la produzione della panda elettrica in Serbia, preoccupano il sindacato. Il sito napoletano non può e non deve essere messo in discussione. Salerno, lucida artista, prima invasione di turisti, pienone nel weekend, lunghe code nel centro storico e alla villa comunale. I commercianti al microfono di 8 channel hanno stilato un primo bilancio. Bene la manifestazione, ma incide poco sui guadagni. Vigili del fuoco in trincea al fianco dei cittadini. Celebrazioni oggi in tutti i comandi provinciali per Santa Barbara. Tanti interventi in questo 2023 per incendi, soccorso a persone e incidenti stradali. Caschi rossi sempre in prima linea, nonostante la carenza di organico. E questi erano i nostri titoli. Buon pomeriggio. Bentrovati con l'informazione regionale di 8 channel. In apertura la classifica annuale che arriva dal sole 24 ore sulla qualità della vita. E Napoli sprofonda. Terz'ultima nella classifica generale italiana. E pesano soprattutto la criminalità e l'emigrazione. Stabile Caserta. In risalita Salerno, Avellino e Benevento. E il capoluogo Sannita. è la prima città della Campania in vetta della nostra regione alla graduatoria nazionale per le rinnovabili. Vediamo. Qualità della vita, luci e ombre nel tradizionale report del sole 24 ore. Il quotidiano di Confindustria ha stilato la classifica dei capoluoghi con la Campania che fatica. Male, anzi malissimo Napoli che precipita al terz'ultimo posto della graduatoria nazionale. A pesare soprattutto la fuga della popolazione, l'occupazione che langue, ma anche gli storici problemi legati alla densità abitativa e alla criminalità. La precede di poco Caserta, che guadagna uno scalino ma resta sul fondo della graduatoria. Boccata d'ossigeno invece per Salerno, che recupera 9 posizioni e si attesta al numero 88 del ranking. Bene, demografia e sicurezza, saldo positivo anche per l'economia. Al primo posto in Campania c'è Benevento. Il capoluogo Sanita si posiziona a 78esimo, con più 4 rispetto all'anno precedente. Tutti i parametri in miglioramento, fatta eccezione per ricchezza, consumi e cultura. Straordinaria performance sulle rinnovabili con Benevento prima a livello nazionale. Subito dopo Ciavellino, che guadagna 5 posizioni e si attesta al 79esimo posto. Il capoluogo Irpino brilla per ambiente e servizi, bene anche la sicurezza. Dati in chiaroscuro, commentati così dal commissario regionale di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone. In tutti gli indicatori sociali ed economici di classifiche che vengono pubblicate da organismi indipendenti, quindi non da Fratelli d'Italia o da Antonio Iannone, la campania è ultima sempre, ormai in maniera fissa e perenne. A margine di un evento a Baronissi, invece, il governatore Vincenzo De Luca ha denunciato la scomparsa degli investimenti per recuperare il divario nord-sud, a cominciare dai quasi 6 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione che sono bloccati da un anno e mezzo dal governo nazionale. Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in un'abitazione disabitata nella quale è divampato un incendio la scorsa notte a Casoria, in provincia di Napoli. L'incendio sarebbe nato per cause di natura accidentale. I carabinieri intervenuti insieme a Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme, hanno trovato in una stanza al secondo piano parte di un cadavere carbonizzato di cui al momento non si conosce l'identità. Dai primi accertamenti non si esclude che la vittima sia un senza fissa dimora che avrebbe trovato un riparo di fortuna all'interno dell'immobile. 806 milioni di investimento per 38 progetti di rigenerazione urbana su Napoli e la città metropolitana sono stati presentati questa mattina insieme all'Agenzia del Demanio. Vediamo. Il restauro, la rifunzionalizzazione e la razionalizzazione dell'ex sede del Tribunale di Castel Capuano, l'efficientamento di Palazzo Fondi, il recupero delle ex caserme Garibaldi, Cesare Battisti, Cavalleri e Boscariello, dell'ex monastero Trinità delle Monache e dell'ex cantiere Pattison, nonché dell'ex spolettificio, ma anche il restauro e il risanamento conservativo di Villa Favorita e la ristrutturazione della Procura della Repubblica. Sono questi gli 11 interventi principali messi in campo per Napoli e l'area metropolitana nell'ambito del Piano Città, il grande programma nazionale dell'Agenzia del Demanio che punta alla rigenerazione urbana e all'efficientamento energetico per il risparmio economico e la restituzione di spazi inutilizzati alla comunità. Sono complessivamente 38 gli interventi che coinvolgono il capoluogo e la città metropolitana per un investimento complessivo di 806 milioni di risorse nazionali. L'Agenzia del Demanio ormai da tempo ha cambiato pelle e sta diventando più giocatore piuttosto che arbitro o regolamentatore di norme eccetera. Il concetto generale è che è cambiata la politica e invece di investire su asset noi investiamo su una rigenerazione urbana, per questo è importante oggi la presenza del sindaco Manfredi e del vice sindaco Lieto, proprio perché si sta ragionando in termini di rigenerazione urbana che è una chiave innovativa rispetto a quello che è stato il recente passato. Quindi dal 2021 abbiamo un po' cambiato la filosofia dell'investimento. Ma soprattutto per il meccanismo virtuoso che si potrebbe innescare di riqualificazione delle zone perché parliamo anche di zone difficili, Miano, la caserma Garibaldi, insomma zone in cui effettivamente non si interviene da anni. La presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola a Caserta ha iniziato qui il suo tour istituzionale nel sud Italia alla Reggia, tornerò con i miei figli, promette e poi lancia un appello ai giovani. Sentiamo. La Reggia di Caserta è bellissima, ritornerò insieme a miei figli. Così la presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola che ha iniziato da Caserta il suo tour istituzionale nel sud Italia. Mezzola con la vice presidente del Parlamento europeo Pina Picerno, eurodeputata casertana e con il vice sindaco di Caserta Emiliano Casale ha scoperto in piazza Van Vitelli davanti al municipio una targa in memoria di Ernesto Rossi nato a Caserta che con Altiero Spinelli ed Eugenio Colorni scrisse dal confine fascista il manifesto Ventotene, testo fondativo dell'Unione europea. Mezzola poi si è recata in consiglio comunale dove ad attenderla c'erano i ragazzi del forum giovani e del consiglio comunale dei ragazzi. Qui a Caserta dove rendiamo omaggio oggi all'eredità di uno dei più grandi visionari europei. Allora in questi 83 anni gran parte della visione di Rossi si è realizzata. Sono caduti muri e l'Unione europea si è rafforzata. Ma la guerra oggi è tornata nel nostro continente. Il terrorismo è di nuovo in aumento. Le sfide sanitarie, migratorie e economiche persistono. Possiamo discutere di semantica e di etichette, ma la verità è che l'essenza del manifesto di Ventotene rimane più che mai attuale. Associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e tentata estorsione. Con l'aggravante del metodo mafioso sono queste le accuse contestate a 23 persone finite al centro di un blitz dei carabinieri in Valle Caudina. Vediamo. Operazione Caudium. Il nome in codice del blitz che all'alba di oggi ha portato all'arresto in carcere di 12 persone, e domiciliari di altre nove, per altre due la notifica dell'obbligo di dimora. 23 ordinanze di custodia cautelare richieste ed ottenute dalla Direzione investigativa antimafia di Napoli all'esito delle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Benevento, che hanno effettuato le indagini partite da un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore, che ha però denunciato. Tentata estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione spaccio di droga, con l'aggravante del metodo mafioso al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata Clampagnozzi, operante nella Valle Caudina. Queste le accuse a vario titolo per gli indagati. Operazione che ha toccato le province di Benevento, Avellino, Roma, Padova e Campobasso. Indagine partita a luglio del 2021, dopo la denuncia fatta dall'amministratore di un'impresa edile beneventana, impegnata nei lavori di realizzazione di una strada appaltata dal comune di Castelpoto. Denuncia presentata dopo che all'interno del cantiere si erano presentati due uomini a bordo di un'auto. Uno di loro, secondo l'accusa, facendo intendere di avere un'arma nel borsello, si era rivolta agli operai presenti, intimando loro di abbandonare immediatamente i lavori, in quanto dovevano mettersi a posto con la Valle Caudina. Attività investigativa che ha permesso di raccogliere anche elementi probatori su un gruppo di persone che gestiva un traffico di sostanze stupefacenti, cocaina e hashish, tra il litorale romano e le province di Benevento e Avellino. Domenica al Museo Campania sul podio con la reggia di Caserta e Pompei. Siti campani solo dopo il Colosseo. Intanto a Napoli è caos bus turistici. Vediamo. Anche la domenica al Museo di Dicembre, l'ultima dell'anno, si è rivelata un successo, collocando ancora una volta la campania tra le regioni da record, tra Pompei e la maestosa reggia. Arte e bellezza della nazione vincono ancora, dice soddisfatto il ministro Gennaro San Giuliano. Sul podio dunque i due gioielli campani, la reggia di Caserta van Vitelliana e il parco archeologico di Pompei. In seconda e terza posizione, subito dopo, il Colosseo a Roma. Ingressi da record anche per Castel Sant'Elmo, Palazzo Reale a Napoli e altri siti partenopei. Ma intanto è caos in città. Tutti pazzi per Napoli, ma c'è l'assalto dei bus turistici. Chiede regole e controlli il deputato dei Verdi, Francesco Borrelli, che parla di insopportabile Far West. Ma la situazione è di due livelli di problemi. Il primo è che se questi autobus, il comune dice che sono meno di 400 nella giornata di ieri, io ne ho contati un migliaio, che significa che su mille hanno pagato meno della metà i 70 euro di sosta all'interno della città, o meglio, all'ingresso della città. E ho dovuto contestare a molti di questi automobilisti, questi guidatori di bus, che parcheggiavano sui scivoli per disabili, in doppia fila, sulle strisce pedonali, sui marciapiedi. Insomma, una vicenda da Far West inaccettabile. Allora, se si vuole gestire il turismo, bisogna trasformarlo in una cosa seria e concreta. Non in un Far West in cui non ci sono regole, in cui ognuno fa un po' come gli pare. Le dichiarazioni rese ieri alla stampa dal presidente Serbo Vucic, che ha annunciato la produzione della Panda elettrica in Serbia, sono l'ulteriore conferma che il futuro degli stabilimenti italiani, dei livelli occupazionali e delle produzioni si decide fuori dai nostri confini. Lo dichiara il segretario generale della FIOM CGL Napoli, Mauro Cristiani, e il responsabile del settore automotive della FIOM CGL Napoli, Mario Di Costanzo, che aggiungono, dopo anni in cui le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento di Pomigliano hanno dovuto subire il ricorso agli ammortizzatori sociali, perché la produzione della sola Panda non bastava, oggi sentono nuovamente in pericolo il loro futuro. Il sito di Pomigliano d'Arco non può e non deve essere messo in discussione. Occorre che il governo decida, concludono i sindacati, se il settore dell'automotive è strategico oppure no. Pienone nel weekend a Salerno per le luci d'artista, lunghe code nel centro storico e alla villa comunale, i commercianti ai nostri microfoni stilano un primo bilancio. Sentiamo. Salerno presa d'assalto nel primo weekend di dicembre di luci d'artista, nella serata di domenica file interminabili nel centro storico e all'ingresso della villa comunale anche prima dell'orario di apertura. Non sono mancate le polemiche per il senso unico pedonale in via dei mercanti da parte di residenti e commercianti. Gli esercenti commentano così i primi dati sull'evento, che entra sempre più nel vivo. L'iscontro positivo è poco, è solo per quelle là che girano, che vanno prendendo acqua, castagne, questo e qua, ma in realtà è poco l'indroito che si dice che dovrebbe arrivare. Per l'automotive di Natale è sempre pieno, quindi sì, c'è un aumento leggero, io non credo sia del tutto merito delle luci sicuramente, perché comunque i negozi lavorano a Natale. L'uscita artista però rianima la città e per i tanti commercianti e imprenditori è un buon volano per l'economia. Io sono sempre delle opinioni, meglio che ci siano piuttosto che no, perché comunque anche un minimo, certo non fai grandi numeri, però comunque c'è sempre una fetta di persone che viene il regalino, il pensierino, comunque lo fa sempre. Soprattutto il fine settimana c'è stata molta affluenza, quindi porta molti frutti. Questo fine settimana è stato veramente molto, molto forte, numeri come quelli passati buoni. E anche le luminari quest'anno sono molto più carine, perché noi la clientela che ascoltiamo, noi chiediamo come sono le luci, quest'anno stanno avendo già un buon riscontro. Celebrazioni anche in campagna per Santa Barbara, la patrona dei Vigili del Fuoco, tanti interventi in questo 2023, soprattutto per incendi, soccorso e incidenti stradali. I Vigili del Fuoco anche in campagna festeggiano la loro patrona, Santa Barbara, ad Avellino in mattinata, le celebrazioni al Santuario del Rosario. È stato il Vescovo Aiello ad ufficiare la cerimonia religiosa, il comandante Mario Bellizzi si è soffermato su un bilancio di questo 2023. Siamo in linea con gli interventi effettuati l'anno scorso, circa 7 mila, con una buona fetta di incendi, di incidenti stradali, apertura porta. diciamo che gli incidenti stradali purtroppo continuano a rappresentare un'elevata percentuale all'interno della tipologia degli interventi di soccorso. Riconoscimento in particolare per l'agente esperto Carmine Galasso che nell'agosto 2021 salvò una donna durante un vasto incendio in un appartamento di Parco Abbate. C'era una signora che era intrappolata e dovevamo cercare di liberarla da questo incendio. Siamo riusciti nel nostro intento, un lavoro di squadra. E a Salerno è stato il comandante Carlo Federico a fornire i numeri degli interventi fatti nel capoluogo e in provincia. Il recupero nella grotta a Castriccivita della sperologa infortunata e inoltre l'impegno profuso in ambito nazionale con le partenze delle sezioni operative del comando di Salerno per le emergenze AIB in Reggio Calabria e le emergenze idrogeologiche in Umbria, Toscana e Rimira-Romagna. Incentivare la prevenzione per tutelare la salute è l'obiettivo degli screening messi in campo grazie alla collaborazione tra l'ASL di Benevento e Confindustria per le imprese. Vediamo. 120 screening oncologici gratuiti per la prevenzione di alcuni dei tumori più diffusi nella popolazione adulta. Sono stati effettuati questa mattina nell'area industriale di Ponte Valentino a Benevento grazie alla sinergia tra l'ASL e Confindustria. Un appuntamento dedicato al mondo delle imprese per salvaguardare la salute dei lavoratori. Conferma la sinergia che abbiamo da sempre con Confindustria, con le imprese del Beneventano. È un momento giusto perché oggi facciamo prevenzione e veniamo direttamente a casa dei lavoratori per dare una mano a loro, una mano alla provincia in modo da poter fare tutto quello che è importante quanto riguarda lo screening. Screening per il tumore al collo dell'utero, alla mammella e al colon retto, gli esami a disposizione presso il track dell'ASL nel terzo appuntamento della campagna di prevenzione oncologica dopo Limatola in Montesarchio. E il presidente di Confindustria, Oreste Vigorito, ha chiarito. La dimostrazione di una sensibilità che va oltre interessi ma va verso la direzione che abbiamo sempre voluto portare avanti, cioè la capacità di tenere al centro dell'attenzione delle nostre attività le persone, gli uomini. Per questo motivo Confindustria ha promosso questo all'interno delle proprie aziende che hanno autorizzato i dipendenti pagati per lavorare ma per guardare la salute perché sono due cose estremamente importanti. Si sta bene se si lavora, ma si lavora se si sta bene. A Baronissi sono partiti i lavori per la ricostruzione della scuola di Sava e dalla Valle dell'Irno il governatore De Luca lancia nuove accuse al governo. Sentiamo. Con un finanziamento regionale di 4 milioni e mezzo di euro a Baronissi sarà ricostruita la scuola elementare della frazione di Sava. Questa mattina il presidente Vincenzo De Luca ha fatto tappa nella città della Valle dell'Irno per dare il vie ai lavori. Ma l'incontro con studenti e cittadini è stata anche l'occasione per ribadire le battaglie portate avanti contro il governo nazionale. Stiamo combattendo qualche mese, come sapete, contro il ridimensionamento del sistema scolastico nel nostro paese. Il progetto ministeriale sulle autonomie scolastiche si tradurrà alla fin fine in una riduzione del numero delle scuole e anche in una riduzione del personale scolastico docente e non docente. Io credo che dobbiamo combattere anche perché se va avanti l'ipotesi di autonomia differenziata, uno dei punti sui quali il sud sarà penalizzato è la scuola pubblica. Entusiasta il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante che oltre alla ricostruzione della scuola di Sava nel giro di due anni ha annunciato anche un finanziamento da 7 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo edificio che ospiterà gli istituti superiori della città. Siamo soddisfatti perché abbiamo realizzato e realizzeremo tante opere per la scuola. Parlo solo di edilizia scolastica. E questo significa la nostra grande attenzione per la scuola, per la formazione, perché i ragazzi che escono dalla scuola devono avere pari opportunità. Ad Avellino, politica e mondo della scuola in lutto per la scomparsa di Rosanna Rebulla, storica esponente della sinistra cittadina. Fu consigliere comunale, assessore con il sindaco di Nunno. Sentiamo. Avellino piange, Rosanna Rebulla, docente di matematica, si è spenta dopo una lunga malattia. Fu consigliere comunale, assessore alle politiche sociali nella giunta di Nunno, oltre che presidente della casa di riposo Rubilli. Domani alle 11.30 i funerali presso la chiesa del Rosario. Gli amici dell'angolo di Nunno scrivono in una nota, profondamente commossi, salutano Rosanna Rebulla. Fulgido esempio di donna impegnata nel lavoro, nel sindacato, in politica, nelle istituzioni, sempre dalla parte dei più deboli e dal servizio della comunità. Esprime il suo cordoio anche l'onorevole Gianfranco Rotondi, che parla di gravissima perdita per Avellino. A 8 Channel il ricordo del sindaco Gianluca Festa. A lei il ringraziamento della comunità e dell'amministrazione per il suo impegno decennale, per l'impegno che ha dimostrato e approfuso rispetto a Rubilli, ricordiamo la sua presenza molto amorevole all'interno di questa casa di cura e certamente ha rappresentato una di quelle figure che hanno ben svolto il ruolo di amministratori per la città. In un momento in cui, ricordo, c'era anche una forte presenza dei partiti, c'era una forte appartenenza ai partiti. Oggi c'è stata un'evoluzione, abbiamo figure emergenti, ma bisogna sempre ricordare e compiacere il passato e chiaramente prendere dal passato degli spunti positivi. I carabinieri della stazione di Cancello Arnone nel Casertano hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capoavetere che ha disposto la custodia in carcere nei confronti di un 32enne per il reato di stalking. L'ordinanza è giunta al termine di un'attività di indagine diretta dalla Procura, scattata dalla denuncia querela presentata da una giovane donna che lamentava le condotte vessatorie poste in essere ai suoi danni dall'ex fidanzato a seguito della decisione da lei assunta di interrompere la loro relazione sentimentale. Alla donna venivano inviati messaggi dai toni farneticanti a tutte le ore del giorno e della notte. Un viaggio tra le peculiarità del territorio che abbraccia enogastronomia, cultura e tradizioni. Seconda edizione per l'iniziativa Picentini Tinerari Comuni che coinvolge nove paesi della provincia di Salerno. Vediamo. Fare rete e promuovere il territorio esaltando le caratteristiche della cultura, delle bellezze naturali ed enogastronomiche. Questa è la mission di Picentini Tinerari Comuni. Iniziativa aggiunta alla seconda edizione che coinvolge quest'anno Montecorvino-Rovella, Cerno, Castiglione dei Genovesi, Giffoni-Sei Casali, Giffoni-Vallepiana, Olevano-Sul-Tusciano, Ponte Cagnano-Faiano, San Cipriano-Picentino, San Mango, Piemonte. Un viaggio in più tappe dove l'unione fa la forza. Quest'anno la seconda edizione dei Picentini Tinerari Comuni rappresenta una grande vittoria del territorio. Sono entrati altri tre comuni che lo scorso anno non c'erano quali Olevano, Acerno e San Cipriano-Picentino e per noi questo rappresenta l'unità dei Picentini. Questo progetto che esporrà e porterà fuori le mura cittadine del territorio quelle che sono le nostre eccellenze. Sindaco, quali sono le iniziative nel suo comune? Noi porteremo una rivocazione storica che è la cosiddetta incenziata. È un rito che si faceva durante il matrimonio, anzi prima del matrimonio, nel nostro territorio e che stiamo riportando alla ribalta da un paio di anni. Testimonial del progetto è il conduttore di Linea Verde come spiega l'ideatrice di Picentini Tinerari Comuni. Abbiamo fortemente voluto anche quest'anno come testimonial d'eccezione Peppone Calabrese che è rimasto folgorato, colpito dalla validità del progetto a partire dal logo che gli è molto piaciuto non solo a livello grafico ma proprio perché riesce a sintetizzare quelle che sono le varie opportunità che offre questa progettualità. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale in regia. Michele Urciolo, grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.